Sì, perché abbiamo iniziato questa raccolta fondi, perché possiamo iniziare il restauro grazie a uno stanziamento di 10.000 euro fornito dall'Opificio delle Petre Dure, però la cifra da coprire è molto ingente e quindi abbiamo attivato tutta una serie di iniziative per poter raggiungere in qualche modo questa cifra. E' possibile quindi acquistare, sarà possibile acquistare anche dei gadget o fare delle donazioni direttamente presso la banca di suo cooperativo di Seranova.